Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come aumentare così gli fps su Star Wars Outlaws se per caso ti ritrovi così il gioco che sta laggando e vuoi fare un po' più fps quindi in questo caso possiamo fare moltissime modifiche sui settaggi delle impostazioni Nvidia e soprattutto anche il programmino Nvidia Profile Inspector che ti permetterà di abbassare un po' la grafica per aumentare gli fps e non avere problemi di lag oppure crash nel gioco quindi in questo caso assicuriamoci prima di eliminare e di fare una pulizia sul disco quindi scrivi qua sopra direttamente disc e uscirà così pulizia disco e vai così eliminare tutti i file che non ti servono sul computer come file temporanei, file nel cestino, file di download che ormai i driver installati li teniamo già sul computer e quelli scaricati li puoi direttamente eliminare oppure pulizia file di sistema ed eccoli qua vai ok vai ok e farà un'eliminazione di tutti questi file e una bella pulizia sul disco chiudiamo un attimo qua e ora andiamo direttamente su esegui quindi scrivi qua sopra esegui qua dentro vai a scrivere percento temp per cento quindi adesso noi andremo a migliorare le prestazioni sul gioco quindi eliminiamo un attimo i file temporanei che non ci servono facciamo una bella pulizia una volta fatto andiamo direttamente sulle pagine che ti ho lasciato in descrizione che ti aiuteranno così a migliorare le prestazioni sul gioco attraverso Nvidia App io per esempio ho una scheda grafica Nvidia quindi devo usare i programmi Nvidia e poi c'è il programma il pannello di controllo di Nvidia quindi tasto destro sopra pannello di controllo Nvidia te l'ho lasciato in descrizione quindi lo scarichi e lo installi gestisci le impostazioni 3d impostazioni programma aggiungo così il programma vado su sfoglia e vado così a prendere il gioco di Star Wars Outros.exe quindi si va nella sua cartella trovi il programma .exe e fai apri ora ridimensionamento immagini mettiamo disattivato antie la scorrezione gamma mettiamo disattivato questo mettiamo disattivato per ora ci facciamo consigliare da Nvidia ovviamente scendi fino a giù fino a trovare l'anti e le trasparenza metti disattivato buffering triplo metti disattivato scendi fino a giù fino a trovare il filtro anisotropico metti 2x filtro struttura restringimento bordi filtro struttura ottimizzazione campione questo della qualità metti prestazioni elevate frequenza fotogrammi massimo metti disattivato e fai ok scendi fino a trovare modalità bassa latenza e metti ultra che è meglio ottimizzazione con triad metti automatico sincronizzazione verticale visto che non dobbiamo bloccare gli fps ma aumentarli quindi facciamo disattivato tecnologia monitor per chi supporta la compatibilità G-Sync o FreeSync per quelli che hanno AMD metto compatibilità G-Sync la più elevata disponibile l'ultima sul mio monitor poi applica più volte finché non si è fatto una volta fatto andiamo direttamente sul programma NVIDIA app che ti ho lasciato in descrizione quindi è un programma per NVIDIA quindi per le schede grafiche NVIDIA per aggiornare e scaricare driver per la tua scheda e migliorare anche le performance su tutti i tuoi giochi quindi ed eccolo qua clicchi qua sopra su grafica ovviamente se ti esce tipo il gioco per esempio in questo modo prendi il pallino e mettilo fino a prestazioni una volta fatto clicca ottimizza se non dovesse bastare possiamo anche prendere NVIDIA Profile Inspector cerca qua sopra direttamente Star Wars Outlaws e eccolo qua scendiamo fino a giù fino a trovare l'anti-elasing transparent super sampling e mettilo su 08 mod replay 08 se non lo tieni metti il 10 se non tieni il 10 metti il 4 scendi fino a giù fino a trovare il filtro struttura di DirectX e OpenGL qua sopra ci vai a mettere più 2.7500 stessa cosa anche qua una volta fatto applichi più volte le impostazioni ovviamente se non ti piacciono queste nuove impostazioni puoi cliccare direttamente qua sopra e fai un ripristino del profilo e ritornerà come prima quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao